Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi farei vedere il mio nuovo libro Il mio poster di Skeletree Skeletree E poi delle cose da comprare al cane Allora il mio nuovo libro di Matt e B Se fuori dal web Eccolo E io mi devo ancora finire di leggere Eppure questo di Charlotte Mi devo ancora finire di leggere Poi qua c'è il mio nuovo Gioco Carte Per qua c'è Skeletree Qua il mio poster molto bello Dall'altezza Eccolo sì qua Arrivo io là dove? Arrivo qua io Sì E poi la cosa più importante Quello del cane Sì Vi dirò tutto quello che serve al cane E questo E questo Allora prima di tutto Un manuale per cani Poi un asciugamano Poi un orologio per il battito del cuore della sua mamma Tipo I tappetini rinfrescanti Poi il cibo Quindi le crocchette di pollo e biscottini Il del dolce Dei croccantini E delle scatolette Poi L'acqua fresca e pulita Però basta cibo Poi giochi da mordere Giochi E corda Poi un kong Una pallina Un tiremolla Una spazzola apposita Una spazzola appiccicosa Per il divano Ah poi io mi compro il barboncino nano Che c'è uno di nome Mimmo Chiara Che sta facendo questa cosa con un suo amico Guardate i suoi occhi Sono marroni Vabbè Non lo dovrò completare Poi Una vaschetta Per pulirlo Poi un cuscino E due coperte Una per il trasportino Poi Una forbice Che ce l'abbiamo già a casa Poi Un antipulci E un antiparassitario Poi Una mascherina Dei guanti La paletta Il trasportino piccolo Di taglia piccola E lo shampoo Il sapone per cane Poi Una ciotola Del cibo Realzata In metallo E anti cibolo Poi La ciotola del cibo Due uguali Una per il cibo umido Una per i sacchetti Queste cose qua Poi I sacchetti per la cacca E i sacchetti genici Poi La ciotola da passaggio Con la piegabile I sacchetti genici La cuccia dura Di legno per fuori Poi La targhetta Col ciondolo Col nome Il numero di telefono E la via Non ve lo posso dire Per queste cose Poi I fogli assorbenti E poi basta Ah sì Poi la pettorina Il collare E il guinzaglio Ciao Ciao